Prosegue spedito l'iter del bando di gara con scadenza il prossimo 29 novembre per la selezione del socio privato della società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Messina. Una deduzione scaturita dal fatto che i giudici della seconda sezione del Tar di Catania hanno rigettato il ricorso proposto dalla Suez International SAS. La società rappresentata dall'avvocato Danilo Tassan Mazzocco aveva giudicato escludenti le clausole di partecipazione alla gara e poi aveva formulato una serie di contestazioni chiedendo l'allullamento del bando di gara. In questo procedimento amministrativo la Suez era contrapposta all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina e al commissario d'acta Rosaria Barresi, nominato dal presidente della regione, rappresentati degli avvocati Fabrizio Tigano ed Antonino Crisci. I giudici del Tar, con una sentenza piuttosto articolata, hanno rigettato il ricorso evidenziando tra gli altri come il termine per la presentazione dell'offerta fosse congru e non irragionevole e la disciplina di gara non contraddittoria né oscura e incomprensibile. Conclusa questa partita proseguono i contradditori amministrativi prospettati dai comuni. Galatima, Mertino, Aliterme e Saponara hanno rinunciato alla domanda di sospensiva, considerato che il Tar l'8 novembre scorso ha rigettato già richieste in tal senso sulla base dei ricorsi presentati dai comuni di Librizi, Montagna Reale, San Piero Patti, San Perniceto, San Filippo del Mela, Montalbanelicona, Messina, Mistretta e Letoianni. Di contro il comune di Falcone, rappresentato dall'avvocato Renato Di Blasi, ha chiesto che venisse comunque dibattuta prima la vicenda legata alla richiesta della sospensiva e i giudici, come già deliberato oltre 20 giorni fa, hanno disposto il rigetto, rimiando per il merito, come già avvenuto per tutti gli altri ricorsi presentati dai comuni, al 27 febbraio 2024. Grazie 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 Grazie